Mr. Reglietti, primo tempo probabilmente di marca Granata, ripresa più effervescente, dinamica, era questa la Salernitana che vi aspettavate? Ma io ho pensato sinceramente a preparare la nostra partita, secondo me insomma al primo tempo sì, la Salernitana forse ha fatto qualcosa in più, però a conclusione stavo solo la traversa sul calcio piazzato, mentre noi nella ripresa secondo me abbiamo fatto molto meglio, abbiamo avuto due occasioni clamorose per sbloccare la partita, non ci siamo riusciti e poi se non si segna è normale che si rischia anche di perdere come è successo sulla parata di Lanni, però abbiamo fatto una buona partita, la Salernitana ha un organico di valore e sicuramente farà molto bene, quindi noi abbiamo ottenuto botta fino alla fine, sono soddisfatto di quello che ha detto il campo, risultato sostanzialmente giusto poi alla fine. Mister, partita che si è decisa soprattutto sulle fasce, sugli esterni, da una parte e dall'altra? Sì, saluto Beppe, in bocca al lupo, sì sicuramente quando soprattutto loro sono passati a giocare 4-4-2 nel secondo tempo diventava una situazione in cui chi riusciva magari a creare superità numerica avrebbe avuto dei vantaggi importanti, sono state più bravi le difese che noi attaccanti e di questo io sono anche soddisfatto perché insomma poi è già la seconda volta che non prendiamo gol, però è normale, ho detto che poi quando giochi in casa e hai occasioni del tipo che abbiamo avuto noi a tre metri davanti al portiere va buttata dentro, poi non è detto che vinci la partita, però un po' di rammarico sicuramente ti rimane. È un caso che Aglietti abbia cambiato buona parte del centrocampo poi? No, sicuramente, vabbè, Bianchi si è fatto male ma l'avevo già cambiato all'inizio perché comunque avevamo speso tanto a Cittadella anche a livello mentale, poi non è neanche facile insomma gestire i recuperi perché poi oltretutto noi siamo anche logisticamente messi non bene e quindi i nostri viaggi sono sempre molto lunghi e quindi avevo cercato comunque di dare un po' di freschezza sapendo anche che avevo giocatori come Giorgi che non sono al cento per cento, hanno bisogno però di giocare per trovare questa condizione e sapevo anche che insomma che qualcosina durante la gara avrei cambiato come poi è successo. Miser, dove può arrivare secondo te questa serenitana? So che non ti piace guardare in casa altrui però... No, ma è brutto, io ho detto, la serenitana l'ho data come una delle papabili ai play-off sicuramente per l'organico, per il blasone, per la storia, per la piazza insomma poi però deve essere il campo a parlare come del resto per tutti, vediamo insomma che secondo c'è il Cittadella, c'è Lentella, la mia squadra insomma il campionato è molto molto equilibrato, siamo tutti lì in pochi punti quindi conterà la continuità, conterà la testa, conterà a marzo, da marzo in poi la condizione fisica e quindi fino a marzo non si può dire poi dopo quale saranno le squadre che lotteranno per i play-off se non chiaramente a bocce ferme e a bocce ferme la serenitana è una squadra forte. Ultimissima chi ti ha impressionato di più della serenitana stasera? Terracciano.